Sono sicuro, che la natura non voleva che diventasse un uomo che si è fatto da sé. Ci sono delle volte in cui stento a credere di avere inculato a botte di cinghiali pelosi con peloni pelusoni pelosmania nel naso e che, disse urlando a squarciacazzi Pedro Pony. Le mie gagine si trovano nelle orecchie e perciò non me le lavo e quando piscio due gabinetti si trovano alla mia sinistra e alla mia destra. Peppa Pig affermò questo. La nostra famiglia, io Dog Pig, risale in culate micidiali remotissime al tempo di Italia nel bidibigbo di bigbo, se non ti iscrivi a Sir Lancelot non trombi più. Qualcosa mi dice che mi scorre nelle vene sperma, perché l'altra sera, che vando con mia nonna mi si ruppe il pene e io distrattamente pensando che fosse un uccellino l'ho ingoiato intero, in modo da non digerirlo mi è entrato nei polmoni e respirandosi è trasmesso al sangue e alle vene e quando bevo il latte, non distinguo più nulla. Mi hanno trapiantato il cancro spermale ed un mouse al posto del pisello, ma gli infermieri sbadati si sono emozionati, dato il primo intervento di questo genere e quindi mi hanno pisciato sul mouse finto. Papà Pig sorpreso andò nel cesso e lo intinse di marrone, la sciorda più micidiale della storia. Dopo aver consumato 10, 39, 21 litri d'acqua e dopo 30 deodoranti uscì dal bagno, obbligando i figli a diventare dei pirla, riportiamo la sua voce nel seguente modo, Voi dovete scopare... Porcellini Hanno succate e volevo dire di diventare dei pirla che scopano. Pedro Poni, comparso magicamente dal nulla disse Ho costruito un fallo di gomma E ho trovato sulla tangenziale una puttana Comunque ho costruito Al prossimo episodio Rieccoci tornati dopo 0,0001 miliardesimi di bilionesimi di decimi di febbre di secondi a cantastorie Un bunker Susia Pecora esclamò Scommetcati chiam Noemi Oppure Gerarda O Angela O Angelica O Jack O Yorrock O Antonio O Antonietta O Geltrude O Papà Pig Ci scommetto quello che vuoi Pedro Poni le rispose E scommettiti sta fetta di carne in mezzo alle gambe che hai Viva i gatti a 5 zampe Intervenne Giorgio e disse In verità il bunker L'ho creato io e l'ho rinominato a Udau Perché poi sul desktop prende tanto spazio E non posso scaricare altri porno gratis con Rocco Siffredi e Shakira Sivacca Vacca Sisi si 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 Masturbisho 9000 Super Saiyan Coi capelli color salsa pisciona maionese e insalata più bonus uguale Non so cosa sto dicendo L'uguaglianza non esiste nel mio paese Esiste Ma non c'è E' andata in via gravidanza e calcionese Mamma Pig Si stese per terra per prendere un fazzoletto sporco E le uscirono tutte le tette da fuori Così tutti dissero Oh aia ma sono tette o cocumerin cancrena? Mamma Pigarrostita rispose Forse la prima e mezzo, disse la voce saggia di Sasha Grey, tra tre due uno ti esploderanno i cocco neri masturbation cancrenation numero inesistente.0 E non successo niente. Sasha morì tranne Giorgio Armani che si ettò nel buchino bunkerino austro bunker ichil. Ed il resto. Go. Nel bunker rimase solo Giorgo Armani, che è Giorgi Letto e Big Armadi Jack Bruschetti il cugino del. Cugino del 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 cugino di. Un cugino a sua volta cugino di un cuginetto di un cuscinetto. Va bene interrompo perché nessuno di questi ormai era vivo. La porta di Beautiful Sasha Gray, che era resuscitata nel letto del bunker, le venne sbattuta in faccia e in questo modo svenne. Si svegliò Trasgra nel letto con papà Pig resuscitato anche esso disse Aspetta alzò con un gesto la pacca destra ed ecco qui un po' di pirito. Sasha Gray respirò come se non lo so inventatelo voi il finale morì. Fine. Poi ci fu il funerale della fine che finì. Fine della fine del funerale finito.